L'apocalisse di Shinsonic ha attaccato la città. Sopravviveremo? Sono in ritardo per la matematica. Non posso andare più veloce. Popcat, sei in ritardo. Mi dispiace insegnante. Sono pronto a fare l'esperimento. Aggiungiamo gli ingredienti. Questo. Questo esperimento determinerà se rimarrai in questa scuola. Oh mio Dio. Cominciamo. Popcat, tu, tu. Home. Hai fatto un lavoro incredibile. Prenderò a E. Dannazione. Na 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 na. Ehi, tu. Home. Perché hai fatto questo a noi? Devo andare. You're too slow. Papà ho preso a E. Guarda. Non ci interessa. Te che? Devi essere veloce e non intelligente. Sono così triste. Nessuno mi vuole bene. Cosa sono? Ho allucinazioni. Ok, andrò dai miei genitori e lo dirò loro. Tra tre minuti andrai in gara con tuo fratello. Umme. Va bene. Dovrei allenarmi. La mia famiglia vuole che io corra molto. Ma... Questo cibo è incredibile. Oh mio Dio, era così buono. Ciao papà. Cosa ti è successo presto? Um. Il vincitore riceverà i giocattoli. Ma se perdi sarai punito. Ok andiamo. Sarà facile. Sì. Due. Uno. Like e sottoscrizione equivalgono a un osso per Pockat. Figlio sono orgoglioso di te. È stato facile. Questo è per te. Evviva. Voglio di più. Em. Cosa otterrò? Per averci provato. Questo topo. Le spuole tempe olio. Oh così dolce. Vieni da papà. Papà. Lui è un veleno. Oh mio Dio. Diecimila Robux. E per me? Un Robux. Cosa? Ah solo uno. Solo uno. Voglio di più. Va bene figlio. Prendi questo figlio. Grazie. Non è giusto. Basta. Ah. Ah noob. 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 Ah noob. Ora che faccio a... Papà, perché? Sono così triste. Voglio essere più veloce di Sonic. Ma non posso. Ah, sei un noob. Cosa ha fatto alla mia stanza? Papà. Ha fatto questo? No. Sei tu. Bobcat, è troppo. Ti cacciamo dalla famiglia. Nooo. Se vincerai la gara con tuo fratello, tornerai in famiglia. Ah mai? È troppo lento. Sono così povero. Cerchiamo qualcosa da mangiare. Ciao. Perché sei così grande? E nella spazzatura. Hai dei Robux? No, sto cercando la mia famiglia. Possiamo portarti. Iaiai. Guarda, sono veloce. Wow, come? Mangia questo e avrai gambe più lunghe. Oh, ok. Sono più veloce. Dammi questo. Ehm, chi è quello? Dammi questo. Banez, what the f***? Ha rubato i fagioli. Omae wa mou shindeiru. NANI? Ah, e adesso? Papà, sono così veloce. Grazie. Mi sto velocizzando. Tornerò dalla mia famiglia. Nom, nom, nom. Ma non lo so che... Te che? Oh mio Dio. Papà, questo è disgustoso. Devo andare sotto la doccia. Mi dispiace, figlio. Nessun problema. Figlio. Cos'è questo? Figlio. Pensa che io sia suo figlio. Cosa? Oh mio Dio. Era strano. Figlio, la gara epica è tra dieci giorni devi allenarti. Ok. Ciao papà. Ti batterò in questa gara. Guarda, sono veloce. Imbroglione. Cosa mi hai fatto? Non posso correre adesso. Sono così arrabbiata. Ah, ah noob. Sono così triste. Non piangere, figlio. Ti aiuteremo noi. Come? Oh mio Dio. Le mie nuove gambe. Ah, 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 diventerò così veloce. Li ho trovati nella spazzatura. Grazie papà. Sono così veloci. Mi allenerò con i migliori. Ragazzo blu. Lui è il più veloce. Gareggiamo. Ok, andiamo. 3, 2, 1, vai. Non posso. Hai morito. Grazie. Vincerò questa gara per davvero. Dobbiamo tagliargli le gambe. Velocemente perché morirà. Nu. Ho perso le gambe. Ci dispiace. Un altro modo per morire. Sono così triste. OMG. Gara. Inizierà tra dieci minuti. Ho bisogno di avere nuove gambe. O provare una sedia a rotelle. Ah, ah, non. Ah, sei tornato. Non puoi vincere senza gambe. Perderò. Fermatevi. Ok. Inizio tra 3, 2, 1, vai. Abbarato. Non vincerò mai. Possiamo portarti. Mangia questo. Avrai gambe più lunghe. Non piangere, figliolo. Ti aiuteremo, figlio. Ok, papà. Vincerò per te. Ah, ora sono pronto. Cosa? Ah. Cosa? Non gioco più. Sono letteralmente troppo veloce. Ma mi piace. Aspettare. Sento qualcosa. Dateci il vostro portafoglio. No, per favore. Devo aiutarla. Oh, my God. Non riesco a muovermi. Ah. Non puoi muoverti. Tu sei Eggman. Oh, ho, ho. Yeah. Ma io sono Sony. Ah. Ciao. E' ora di finirlo. Come? Ha distrutto Brookhaven. Ho distrutto Popcat. Ora è il tuo momento. Dacci i soldi. Ok. Pensavano che io fossi distrutto e che potessero derubare tutti, eh? You're going to fall out. Grazie per avermi salvato. Nessun problema. Per te. Oh, grazie ancora. Nessun problema. Cosa sta succedendo? La persona che vincerà questo nascondino riceverà un sacco di robots. Ma la persona che morirà mostrerà il suo volto nella vita reale. Non mi sto mettendo a rischio. Non gioco. OMG. Era il suo volto nella vita reale. Ma ok, mi unisco a questo per Robux. Devo sfamare i miei bambini. Iniziando ora. Cosa? Ok, devo usare gli hack di Brookhaven RP. L'ho visto quando mi sono unito al server. Apriamo questo. Tre secondi. Ah, ho il posto migliore. Iniziando ora. Ti vedo. Ah. Era a Brookhaven. Questo è Brookhaven normale A. Ti vedo. Oh no. Sta arrivando lì. Devo nascondermi in fretta. Idea. O-M-G. Cos'è questo posto? C'è qualcuno al cento per cento. Posso sentirlo? Wow. Oh no. Sonic è qui. Ti prenderà blu. Oh, devo scappare. Sento qualcosa. Oh oh. Ah. Ok, devo scappare da qui. Prossimo posto bara in chiesa. O-M-G. Questo posto è un posto da cento qui per nascondersi. Fatto. Aspetta. Cos'è questo? Wow. Jenna. La gomma ha fallito. Hai usato la gomma da masticare per incollarti al soffitto. Sì. Sposiamoci. O-M cosa? No. Aspetta. Sonic è qui. Non ho posto dove nascondermi. Sento in questo posto due persone. Dimmi dove sono i tuoi amici. Um. Ok, ti dirò. Lui è... Dove? Da nessuna parte. Ah, bel volto. Iscriviti per il volto di Jenna, per favore. Dove sei? Ok, scappo. Ma ora devo trovare un altro posto dove nascondermi. Pockat. Cosa? Nasconditi in fretta. Sta arrivando. Ho questa pozione. O-M-G. Cos'è questo? Non so cosa succederà se la berrò. Ok, ho un'idea. Vieni. Non è successo nulla. O-M-G. No. Ora è impossibile per te nasconderti, Bru. Aspetta cosa succede se mi lancerà su questo cartello. O-M-G. Questo posto è incredibile. 3.000 IQ. Grazie, fratello. Iai. Ora devo nascondermi anch'io. Ok, in bocca al lupo. Spero che sopravviva. Mi chiedo dove è il cercatore. O-M-G. È sotto di me. Sento qualcosa. Hmm. Ti ho preso. Oh, ehi. Oh, ciao. Sai dov'è il bagno? No. Accanto alle collezioni. No. O-M-G. Così vicino. Ero così vicino. Sono quattro persone rimaste. O vedo qualcuno. Shh. Devo nascondermi in fretta. Ma dove? Cos'è questo? Assolutamente no. Sono nelle stanze sul vetro. Ben? Ben? Seguimi. Ok. Oh no. Piscine tossiche. Sono saltato fuori. Oh no. Ti ho visto. Aspetta. Chi è quello? Fratello aiutami Sonic è vicino. O-M-G. Vieni. Oh no. Questa piscina ti ha cambiato. Devo scappare. Mi dispiace. No. Per favore. Ok. Ok. Devo scegliere le porte. Più porte. Blu. Ok. Queste vanno bene. Aspetta. Ben. Ben. Posso nascondermi dentro di loro. Dove sei gatto? Ok scappo. Ho trovato un posto dove nascondermi. Bello. Cos'è questo? Un insetto sul mio water. Non importa. Sembra fantastico. Non dentro. Ciao Jennifer ora mi aiuterai. Nessun problema mio signore. Vieni. Penso che si stia nascondendo qui. Oh no. Niente qui. E ora l'ultimo. Ho tempo. Grazie Shrek. Quando? Wow scappo. Ho bisogno di aiuto Jenna. Giusto. Lei ci aiuterà. Ciao fratello. Oh no. Due nascosti qui. Ho qualcosa. Cosa? Ce l'ho fatta. Ok. Proviamo. Cosa sono invisibile? Questo è barane. Dammi quello. L'ho bevuto. Scusa. Popcat guarda dietro di te. Oh no. Run. Sono invisibile. È meglio che con la più veloce delle gambe lunghe. Popcat mi sto nascondendo qui. Dove sei? Non ho bisogno di nascondermi. Forse qualcuno è là. Ah ti ho trovato? No. Ok scappo. Di nuovo. Sono due giocatori rimasti. E la mia pozione ha smesso di funzionare. Bleh. OMG. Cosa è successo qui? Oh mio amico. Ciao. È stato preso. Solo due giocatori rimasti. What are you doing? Vincerò. Mai. Oh questo posto sembra strano. Ottimo posto per nascondersi. Ecco ti. Ti ho trovato. Facile solo uno rimasto. Abbiamo dieci minuti o lui vincerà. Oh no. È ora di scappare. Ok. Ho avuto questa idea pazzesca. Pozione riduttiva più casa uguale miglior nascondiglio di sempre. Sono così piccolo. LOL. Guarda. Questo è il pollo di Brookhaven. Sono come un pollo. Oh no. È qui. Forse. Oh. Solo 20 secondi rimasti. Sto andando. Oh no. Ho vinto. Ora dammi 100.000 Robux. Oh no. Bru. Ah. Ok hai vinto. Facile. Il nostro bambino è bellissimo. Sarà ricco come noi. Sì. Dammi questo bambino. Buh. Dove è andato? Bella salta sopra questo. OMG. Easy. Ora sopra questo. Ok. Bene. Questo è per te. F. Portoy. Il mio turno. Easy. Hai per te. È il mio turno. OMG. Fratello noob. Stai per essere espulso dalla scuola. Ciao. Ciao ragazza. Sono stato espulso dalla scuola. Non riesco a crederci. Mi insegneresti a saltare? Yeah. Popcat salta su questo. Un questo è pericoloso. Lasciami provare. Oh no. Sono un principiante. Papà. Devi andare in allenamento. Adesso. Non riesco. La persona che fermerà uguale la stanza peggiore. Let's do this. Inizia a saltare. OMG. Ce l'ho fatta. Ah. Andiamo. Non riesco. Ecco la tua stanza. Figlio peggiore. Stanza privata. Hello there. Mi distruggerà. Devo saltare sopra di uno. OMG. Le mie gambe sono tornate. Devo saltare di più. Andiamo di nuovo. Yeah. Livello 3. Ciao Poppa. Oh ciao. Livello 4. What? Non può essere così. Cosa sta succedendo? Sto perdendo la mia potenza. Sto perdendo le mie gambe. Oh il latte dovrebbe aiutare. Papà. Cosa è successo figlio? Lui ha bevuto il mio latte. Cosa hai appena fatto? Ok. Oh. Oh. Abbiamo della pancetta. Ti odio papà. Torneo di salto per 10.000 Robux. Tra tre giorni. Figlio. Dobbiamo vincere questo. Vincerò io. Prendo un biglietto. Devo iniziare ad allenarmi. Posso aiutarti? Salta su di me. Veloce ragazzo. Ok. Non riesco. Prova a saltare sopra la lumaca. OMG è così difficile. Iai. Nuove gambe. Ok. Ora salta sopra la ragazza più alta del mondo. Ok. Prossimo livello. Ho fame. Guarda. Cioccolato. Oh my God. Non riesco. Allenati su questo. Ok. Sì. Delizioso. Ora non può battermi. Mostrami le tue scarpe. Oh papà. Oh no. Scarpe ok. Eccoli qui. Piace e iscriviti se non vuoi indossare queste scarpe. Torno a saltare. Veloce. Veloce. Oh. Oh figlio. Ho bisogno delle mie scarpe indietro. Andiamo. Chi ti ha fatto questo? Sei un indoglione. Non posso perdere con lui. Saltiamo di più. Ah. Saltiamo sopra questo adesso. La mia più grande paura. Questo ha cambiato la mia vita. 3 2 1 Letteralmente il miglior livello. Oh me andiamo a dormire. Lui non può vincere. Il giorno successivo. Prossimo giorno incredibile. Scarpe ai piedi. Cominciamo a saltare. Non mi sento bene. Qualcosa mi ha morsicato le gambe. Perderò il torneo. Ho perso tutto. Sono così triste. Mi arrendo. Non puoi arrenderti. Salta su questo. Non ho le gambe. Non mi importa. OMG. Ce l'ho fatta. Cosa? Ora inizia ad allenarti per il torneo. E salta come me. Proviamo di nuovo. Sì. Successivo. Andiamo. E' l'ultimo. Ce l'ho fatta. Ragazzo blu. Sto arrivando. Grazie mille. Nessun problema. Il torneo sta per cominciare. Salta su questo. Facile A. Ume aspetta. Ora salta su questo. O no. Il primo tentativo non ha funzionato. Papà dammi la pozione magica per saltare. Ok figlio. Ce l'ho fatta. Sì. Mi ha fatto questo. Il mio turno. No. Ancora. Ultimo tentativo. O no. Posso aiutarti? Salta su di me. Chi ti ha fatto questo? Ora inizia ad allenarti per il torneo. E salta come me. Sei il migliore. Sì. Lasciami in pace. Ultimo salto. Papà dammi gli altri. Andiamo. Ok mio turno. Ce l'ho fatta. Ah. Sono il miglior saltatore del mondo. Viene lui. Ciao. Cosa è questo? Perché è così piccolo? È più piccolo degli altri bambini. Cosa? Ma forte. Cosa hai fatto? Dobbiamo allungarti. Non fare questo. E ora sono ancora più piccolo. Non preoccuparti. Figlio. Ecco la tua stanza. Wow wow. È Pip. Non lo merita. La mia stanza. Perché? Mi dispiace figlio. Ho ristrutturato la tua stanza. Che cosa? Questo è troppo alto per me. Il giorno dopo. Wow. Questa scivola è davvero pericolosa. Mi dispiace. Primo. Sei bravo. È il mio turno. Sei troppo piccolo. Cosa? È il mio turno. Sono bravo. Ehi. Non è giusto mamma. Ho paura. Ti aiuterò. A. Sorella. Com'è stato? M. Ha perso le gambe. Cosa hai fatto? Mi dispiace. Punizione. È troppo. Non sarò mai professionista. Mia madre mi odia. Diventerai alto. Il giorno dopo. Aspetta. Mi sento più alto. Cosa è successo? Mamma e papà. Guardami. Non mi importa. Posso partecipare a una corsa? Sì. Oh sì. Inizia. Wow. Sono così veloce. Cosa? Per te. Wow wow. A. Per te. Mamma. Ho preso dieci volte A. Wow. E ho preso F. A. È giusto. A causa di Popcat. Cosa? Aiutami. Nel frattempo. Mi affogherò qui. Aspetta. Sono uscito. E sono ancora più alto. Ah. Sono davvero arrabbiato. Nascondiglio. Li sento. Ciao mamma. A. Dov'è lei? Addio mamma. Vendetta per il passato A. Cosa hai fatto? È troppo. Oh me. Mi sento male. Questa è la ragazza più alta del mondo. Non sarò mai alto come lei. Aspetta. Se vuoi essere più alto, salta sopra questo. Cosa? Ci proverò. Nonna. L'ho fatto. Wow. Ora salta sopra questo. Ok. Hai bisogno di motivazione. Wow wow. Sono così alto. Ah. Salta sopra questo. Difficile per me. L'ho fatto. Non può essere così. Distruggilo ragazzo. Oh no. Salto. Stanno arrivando. L'ho fatto. Ah. Un abbonamento e un mi piace equivale a una ossa per me. Per favore. Non riesco. Stanno arrivando. No. Stanno sparando. Questo è difficile. Ah. L'ho fatto. L'hanno colpita. Salto successivo. Ah. L'ultimo. Salto. Sono così grande. Oh. Cosa vedo? Chi è la persona più alta del mondo? Ho vinto. Non che molto. Ah. Cosa? Sì. A-G-R. Non mi batterai mai. Cosa hai detto? Hai vinto. Oh my God. Cosa hai fatto? Ora lei è la più alta. Sono così triste. Sei così piccolo. Quindi resterai lì per dieci anni. No. Non per dieci anni. Dieci anni dopo. Sono cresciuto così tanto aiutami. Ho perso la mia altezza. Prendi questa pozione mamma gambe lunghe. Ho bisogno della tua altezza. Ora. Hai preso la nostra altezza. E' ora di uscire. OMG. Cos'è quello? Devo colpirla. Prossimo tentativo. Pozioni elicottero. Sono sulla sua testa. Smetti di crescere. Proprio adesso. OMG. Ho perso tutto. Distruggerai il mondo. Ehi, povero. Sei cattiva. Aiutami. Vieni qui. Sto crescendo. Ehi, fratello. Lasciami in pace. Ah. Perdente. Addio. Salto successivo. Wow. Prossimo aggiornamento. Non riesco. Questo è troppo difficile. Non posso. Sapevo che non ce l'avresti fatta. Sono arrabbiato. L'ho fatto. Ultimo salto. Ultimo salto. Ultimo salto. Facciamo una gara per la tua altezza. Vincerò. No. Lo farò io. Andiamo. Ehi. Ora è difficile. Ora è difficile. Posso volare. Via! Oggi sto ottenendo il lavoro dei miei sogni. Cosa vuoi tesoro? È un lavoro. Sei così dolce. Oh no! Cosa è successo? Volevo baciarti. Voglio parlare con il tuo capo. Ciao, voglio un lavoro qui. Yes. Facciamo un test. Cosa? Questo posto è sospetto. Prossimo passo. Baccio. Cosa? Mai. Hai perso il lavoro dei tuoi sogni. Non lo farò comunque. Hai ottenuto questo lavoro. Congratulazioni. Grazie mille. Amo dormire. Cosa stai facendo? Voglio controllare se tutto va bene. No, per favore. Non toccarmi. Non tornerò. Cosa hai fatto? Devo nascondermi. Andrò in prigione. L'estero è scoperto. Non credo che hai nessuna idea che migliore che sono. Lo vedo. Lo vedo. Ah. Possiamo fare tutto con te. Possiamo fare quello che vogliamo con te. No. Tempo di bacio. Tempo di cuccio. Tempo d'amore. What are you doing? What are you do? No! Smetti. Perché? Perché ti hanno baciato? Em, penso che mi piaccia. Sei scappato. Perché io? Ora! Finalmente! Dove è Popcat? Uno lo sappiamo. Sono qui. Ecco un regalo per te. Prendi questa torta. Grazie mille. Aspetta, c'è una chiave. Iscriviti e metti mi piace per ottenere una chiave. Stasera. Ok, posso scappare. Perché vuoi andare? Ho fatto questo per noi. Um, siamo in prigione, non al ristorante. LOL! Siediti. Wow wow aspetta. Quando mi bacerei? Mai. Smetti di scherzare. Cosa stai facendo? Mi stai rubando il ragazzo. Stai rubando. Point! Fight! Oh mio dio! Questo è davvero strano! Voglio andare a dormire per ora! oh mio dio questo letto d'oro è incredibile mi fa male la schiena la mia fuga è pronta voglio saltare mi dispiace hai distrutto la mia fuga dieci anni di lavoro ora è la tua fine oh mio dio mi hanno salvato perché hai picchiato il mio ragazzo aspetta davvero grazie nessun problema nessun problema cari ok è ora sto scappando oh no perché lei è qui pop cat em si mi vuoi sposare em sposami si non posso perché david non riesco a toglierlo ora siamo insieme oh mio dio no cosa sta succedendo ok tempo di correre devo scavare evviva posso correre ora ah si sono libero aspetta dove sono sii pronto per l'altro sii pronto per l'altro verremo qui tra 5 minuti oh mio dio non è possibile devo scappare ho questo piccone ah ma ora qualcuno deve restare qui il mio clone facile ora devo fare scherzi non vedo l'ora di stare con pop cat anche io sembro disgustoso sembro disgustoso ah prossima pozione i miei capelli chi l'ha fatto con i miei capelli a ultima è troppo devo scappare da questa prigione wow o saltarmi fuori devo allenarmi di più ora sono tonto ah sono libero oh mio dio ah preso aspetta sto per svenire ho bisogno di bocca a bocca oh mio dio posso farlo grazie per la pistola ah ci vediamo oh mio dio siamo così vecchi e felici o no o no chi siete ragazze siamo del dipartimento di polizia possiamo controllare casa tua em certo dovremmo fare una notte fuori possiamo am ok cosa ehi grazie cosa stai facendo ti amiamo no pop cat cosa non è quello che pensi o hai distrutto loro non toccare il mio pop cat lascia stare il mio pop cat ma tu avrai una punizione ora possiamo tornare al film certo fermati per favore non puoi vincere oh no prendilo indietro no oddio ehi tu oddio l'odio tutto va bene no ragazzo cosa è successo la mia b wow ecco a te wow grazie oddio nessun problema puoi aiutarmi mamma ho fame dobbiamo mangiare fagioli oh no vieni qui si l'ho ucciso grazie per l'aiuto nessun problema no papà oh mi dispiace ha salvato la mia vita davvero si ma è tornato aspetta ratto d'oro grazie nessun problema ciao umi ciao mamma ho fatto cena oddio carne incredibile era così buono si mamma ne voglio di più finisci la cena ok non mi sento molto bene abbiamo bisogno di aiuto mamma perché siamo qui abbiamo bisogno di aiuto ok qual è il problema per favore aiutate mio figlio trasformatelo in oro nessun problema oddio oh yeah mi sento così bene oddio mamma sono così forte figlio dammi i vestiti migliori ehi fermati vattene no tu cosa le è successo smettete di combattere ho una proposta la persona che vince può sposarmi trasformare una cosa in oro ok mamma figlio cambiami ok mamma figlio non riesco a muovermi ho qualcosa di meglio mamma lui ha vinto la prossima categoria è combattimento ok se voglio vincere devo diventare più forte ratti devo catturarli ratti d'oro ciao ciao vuoi ratti d'oro solo 200 dollari per uno sì andiamo oddio oro cosa hai fatto oro mi sto fortificando oddio a a sono pronto nel frattempo a sto per vincere aspetta hai perso questa è la tua stanza oddio questo è schifoso e questa è la tua stanza non mi importa devo trovare mia madre adesso mamma la sento non la troverà mai mia madre mamma dobbiamo uscire forza dobbiamo scappare o no allarme il giorno dopo odio la mia stanza aspetta mamma cosa sta succedendo pulitore pessimo brutto bidello fermati pulisci più velocemente e meglio possiamo passare alla categoria successiva sì trasforma quante più cose possibile in oro ok aspetta un attimo gorilla ok prima cosa ah posso venderlo per 10.000 dollari devo vincere ah a oro sto perdendo oh no denaro per favore oh ciao iscriviti e metti mi piace e domani trasformerai una cosa in oro oddio il mio sogno lamborghini del valore di 3 milioni di dollari cosa non è abbastanza per vincere casa d'oro grazie dai nulla è distrutto non può muoversi ho perso le gambe ha trasformato tutto in oro hai vinto di nuovo la playstation 5 è per te solo ps5 e io cosa avrò questo questo oddio sei così cattivo ultima categoria ok stiamo resettando tutti i punti questo non è giusto non mi importa la gara è tra un'ora oddio ho solo questa macchina ah perderai oh no aspetta posso aggiornarla anche questa oddio ragazzo più veloce ragazzo più veloce ok è troppo lento devo fare il prossimo aggiornamento wow a auto da noob o hai una tesla non puoi vincere no per favore prenderò tutto o no aggiornamento aggiornamento 2 1 via devo comprare una nuova macchina ciao ciao hai qualcosa da vendere questa lamborghini solo un oro ok yes cibo per cani d'oro oddio prendi la mia lamborghini ah andiamo aspetta ti ha vinto vediamolo al rallentatore io ho vinto vieni qui non può essere vero aspetta cosa sta facendo no sta trasformando tutto in oro dobbiamo scappare aspetta non riesco a muovermi mi ha trasformato in oro popcat usa il fuoco oddio ok l'oro si scioglierà ma anche tu si lo so ok ah non ridere ho la bevanda infuocata oddio no alcuni istanti dopo yay ce l'ho fatta ho salvato il mondo ma la famiglia si sono sciolti aspetta cosa yay yay siamo forti e d'oro sei vivo yay lei è nella mia casa impossibile mi dispiace volevo baciarti aspetta non sono bambalena hai sbagliato persona hai sbagliato persona abbiamo bisogno di bambalena cosa sta succedendo è la mia casa devo andarci oddio cosa sta succedendo qui bambalena bevi questo ah no mai dammi quello no ora esploderò oddio cosa è successo qui perché tutti sono bambalena questa persona ci ha cambiato e ora devi scoprire quale bambalena è reale oh my god bamban bamban quale pensi sia la tua ragazza questo posso sentirlo non credo era stinky joel l'hai baciato quindi abbiamo ancora 10 bambalenas ora dobbiamo controllare le vostre voci prima bambalena wow bellissima prossimo e ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente ok non sospetto prossimo ciao dove ti stai nascondendo per favore fa male sono forte um non suona esattamente come bambalena ma va bene prossimo ascolta se riesci a sentire quello che sto dicendo fai un cenno a qualsiasi telecamera cosa voce maschile sei un sospetto prossimo quindi ci incontriamo di nuovo dove sono i miei figli prossimo sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza sospetto prossimo mi ha portato in bagno questo era strano prossimo piacere di conoscerti un penso che tu sia malato prossimo sei stato uno studente cattivo bene ultimi due cosa ok questo è opila ma l'ultimo ok questo sembra normale quindi tu stai uscendo avevo ragione sono rimaste solo nove bambalena quindi ora devo controllare i vostri spaventi numero uno ok bene prossimo non male sembra reale ok questa persona era sospetta prima attaccami dove pensi di andare? wow era come bambalenas non sei più un sospetto prossimo 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 ahia la mia testa era reale prossimo ora tu cosa era quello? non è bambalena fai di nuovo il secondo era reale prossimo la mia testa ma era uno spavento molto sospetto prossimo di nuovo oh fratello perché hai lo spavento di nab nab? perché il dottore ha cambiato il mio cervello sospetto prossimo unne spavento incredibile mi piace sei reale prossimo mi piace prossimo cosa era quello? lo spavento di fiddles sospetto prossimo tu lo sai ahia perché lo spavento di bambam? oh ho appena cliccato il pulsante sbagliato era ancora bambam stai venendo eliminato ah era bambam ops ok prossima categoria disegnati ora ok fatto non sono bravo a disegnare facile non un bel disegno prossimo non il migliore ma ok prossimo wow prossimo wow buono prossimo brutto sei un sospetto prossimo um perché c'è un stinger film? cosa? um e nulla strano prossimo buono wow hai dipinto un modello 3D e l'ultimo um sceliffo che diavolo mi dispiace ma stai venendo eliminato ciao ciao ah avevo ragione non ne restano molti prossimo devi disegnare la tua cotta facile mostrami oh io bambam prossimo bene ok prossimo cosa? figo prossimo bambino ma bambam quindi ok prossimo bambam malvagio bene questa è la mia cotta aspetta cosa è questo? um e e tu? ragazzi siete sospetti da ora ma ora bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro oh oh my god oh non è il migliore prossimo oh my god quello blu bambalena era molto meglio prossimo quello rosso lasciami pensare meglio del precedente viola e arancione perché questo? viola molto bene ma arancione questo è brutto no 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 ne restano tre facciamolo dai siete al sicuro ragazzi mi dispiace fratello ma sei falso per favore no Stinger Flynn quindi ne restano solo sette ok quindi ora ho una domanda quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato dove sei andato? la risposta corretta è nella stanza su andate je ne suis pas dué pour des saints o mi siamo andati a un appuntamento stavamo bevendo caffè per favore lasciami in pace wow mi chiedo dove l'ha portata sembra reale ok quindi ora tu lo stesso data ok lasciami pensare mi ha portato per l'operazione e voleva cambiarmi ah è ora di cambiarti ah perfetto un strano ok tu mi ha portato a Umme in prigione cosa? non credo sia corretto ok tu data prossimo mi ha portato fuori per un appuntamento ok tu mi ha portato in bagno cosa? metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno fratello sei un sospetto e l'ultimo si ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere quindi ora Bambalena era molto veloce benvenuti al torneo finale siete pronti? si si wow è così veloce prossimo e prossimo e prossimo ok vediamo chi ha vinto bravo sei stato veloce e aspetta perché ne manca uno? mio dio mi dispiace ma devo ucciderti ciao Lumaca Selene Bambalena era intelligente quindi ora risolvi questo quesito vieni una mela più una mela equivale a? due mele hai ragione bene prossimo pomodoro più acqua equivale a? zuppa di pomodoro hai ragione sei legittimo prossimo aereo meno carburante per auto equivale a boom wow sei così intelligente prossimo è così facile è zuppa di pomodoro no cosa? assassino più coltello equivale a morto non sei Bambalena ciao Zolfius non bene ma abbiamo solo cinque Bambalene rimaste ok quindi disegnati e poi diventa quello tu per primo fatto wow sembra Bambalena ok quindi ora per il prossimo facile fratello aspetta aspetta cosa è questo sei un sospetto ok ok dopo un sospetto il prossimo andiamo Bambalena più Nabnab molto strano ma ok ora tu cosa è questo Zolfius più Bambalena prossimo facciamolo cosa è questo fratello stai ricevendo una spilletta di sospetto quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata mostrerà chi è reale e chi no vado per primo potresti essere Bambalena ok quindi il prossimo questa pozione l'ha eliminata fratello ok quindi il prossimo grande prossimo mio dio questo è sospetto hai il corpo di Nabnab quindi il prossimo questo è falso è Raccoch Pickles mi dispiace ok quindi abbiamo solo 4 Bambalene ok quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita cominciando con il primo lei era super forte perché sei così forte? ah sono sempre stato così ok questo era corretto Bambalena è forte prossimo la radiografia mostra che all'interno del costume di Bambalena ci sono due persone ok ora vediamo cosa c'è dentro di te cosa? due persone ok ok questo è sospetto due persone sono in pigster lei ha ucciso Bambam perché era con Nabnablena ok Bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam è corretto lei era innamorata di pigster aspetta tutto questo mi dice che sei un pigster avevo ragione ah ne restano solo 3 lei è stata morsa da Bambam e poi ha perso la mano è vero e corretto prossimo lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matemati questo è il problema matematico più difficile del mondo 2 più 2 4 mio dio sono così intelligente sei intelligente come Bambalena era molto lenta come una lumaca era come una lumaca quando camminava mostrami come cammini mio dio è la cosa di lumaca selene strano prossimo lei puzzava bella cena Bambalena non mi sento così bene oddio cosa mio dio è come Stinky Joel aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso che diavolo strano aveva una grande pancia perché amava mangiare fratello stava spaventando i nerd siete tutti nerd odio i nerd attacco ok prossimo lei era la cotta di tutti anche di Adam di Lenkybox si è vero tutti amavano Bambalena aveva dei bambini con Bambam mostrameli wow sono dolce è stata colpita da Jammo Josh tutte le cose qui sono corrette ma ora passiamo alla prossima categoria ora devi costruire la tua statua il migliore equivale a vincere ti sto chiudendo e aspettando i risultati cinque ore dopo ok vediamo i risultati wow non male prossimo cosa è questo non è Bambalena mi dispiace sospetto e l'ultimo wow 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 perfetto mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione Jambo Josh mio dio ok quindi sono due Bambalene rimaste vediamo cosa hai fatto lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco sembrava un ragno con un sacco di denti è anche il ruolo di Nabnab fratello era un maschio aspetta Bambalena è una femmina non un maschio ok sai cosa sei falso impossibile Nabnab ok quindi questa è la vera Bambalena iai si finalmente mi hai trovato qualcuno ha ucciso Bambalena e anche qualcuno ha ucciso Nabnab guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino chi è l'assassino? aspetta mettili giù prima Bambam vedo i tuoi denti su di lei mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore aspetta Oh, no, no, no. La 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 hai il mio braccio oh mio dio mi dispiace mani in alto sei arrestato quindi l'hai uccisa ho solo morso la sua mano ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione impossibile che sia in prigione ma aspetta o no abbiamo la stessa cella ah finalmente posso vendicarmi mio dio quindi l'hai uccisa il caso è chiuso no aspetta ho ucciso un poliziotto per salvarla ah sei chiuso qui dentro no mio dio mi hai salvato bacio mio dio quindi gli siete innamorati alla fine si ok passiamo al prossimo fatta un uroo stavo giocando con bambalena e nab nab oh mio dio è stato così cattivo ma poi si è vendicato su di me e bambalena spero che nessuno mi spaventi di colpo amico fammi uscire ok quindi nab nab l'ha solo spaventata di colpo ma aspetta cos'è questo il naso di coach piccol no mi stavano prendendo in giro dove sei? ah cos'è questo? il mio naso lascia che lo tagli per te no no oh mio dio cosa è successo dopo? mi sono vendicato su di loro ehi cane mi puoi dare il tuo naso? lasciate che lo faccia io per voi grazie ora di vendicarsi amo il mio nuovo naso ehi è la tua fine ora è il turno di bambalena ok vedo bambalena ehi dammi il tuo naso ok grazie ehi bambalena muori ehi 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 brother no 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 ah quindi hai ucciso nab nab e bambalena non lo prometto impossibile figlio di bamban l'hai ucciso tu? non sono stato io lo prometto ho invitato bambalena al mio concerto ma nab nab non piaceva l'idea ehi bambalena ho fatto qualcosa per te cosa? cosa sta pensando? lei è la mia cotta quindi cosa è successo dopo? mi sono vendicato ok nab nab sei pronto per sentirmi cantare? vai ah tempo di riposarsi quindi l'hai ucciso caso chiuso no impossibile chi lo ha fatto? aspetta c'è una siringa strumento del dottore penso che il rosso potrebbe ucciderlo non ero io cercavo di farli mutare ora di farti mutare mangia questo ah no 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 ah ora tocca a te no no ha funzionato ah e ora è il momento di unirvi mua ah perfetto sapevi che avrebbe potuto ucciderli? si ma non è successo mio dio l'umaca selina è il tuo muco li hai uccisi? no in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore cosa stava facendo? stava schivando meme lol ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab mi ha buttato in piscina mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri di nuovo aspetta a dell'alfabeto hai ucciso bambalena e nab nab? ero un peluche normale ma lei sedeva sempre su di me tempo di sedersi ah un'ora dopo ho aggiunto delle spine su di me si pentirà di essersi seduta su di me tempo di sedersi ah due ore dopo ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a bambalena acceniamo insieme ok prendi posto sarà la cena migliore sto rompendo con te aspetta cosa? 5 ore dopo ultimo scherzo aggiungerò della TNT chi ha? ah o voglio dormire ho avuto una brutta giornata no 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 aspetta agrer è troppo hai distrutto la mia vita vieni qui cosa è successo dopo? ti ha eliminato? sì mi ha ucciso in cento modi diversi ti faceva male? sì aspetta qualcosa sta dando i numeri amanda l'hai fatto tu? ho visto bambalena e nablab guidare una macchina e mi hanno investito tempo di guidare la mia nuova auto ferma 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 l'hai uccisa? no lei è sopravvissuta solo con una botta in testa capisco ah amanda anche lei è morta aspetta vedo un coltello coltello dello sceriffo ehi tu l'hai fatto stavo solo togliendo le loro maschere sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt prima bambalena amico altre maschere amico mio dio altre maschere ehi torna qui amico cosa? ok prima la fata cosa? pensavo avessi paura della fata ok la famiglia di Zolfius Wally oh my god amanda ora il puzzolente Joel per favore no sono brutto ah cacca Fiddles sono bello vediamo ah skipping yeah ok dopo Nibbles oh my god Adam di Lenkibox amico impossibile ora per questo ragazzo del capitolo 4 per favore non fatelo ho dei figli e sono brutta dentro lo farò a Flamingo wow pazzesco prossimo Nab Nab sono la persona più brutta del pianeta non fatelo vedere non dirlo nessuno è brutto mio dio così carina prossimo Jumbo oh my god M chi sei? ok prossimo Luma Casseline please don't do it cause 1 a M average lo farò Jenna ok abbiamo controllato molti di loro ora questo ragazzo da un nuovo capitolo vediamo il tuo volto bello prossimo Bambam vediamo no per favore no cosa? Rick ti amo John Viola vediamo no per favore smettetela subito nonno di Squid Game prossimo è Squalo no ah Isho Speed prossimo Pigster 4 Kylos prossimo allenatore Pickles Mister Beast wow e ora tutti aspettavamo Nab Nab e Bambalena mio dio wow ok quindi non li hai eliminati qualcuno ha sparato allo sceriffo ah perché l'hai fatto hai ucciso Nab Nab e Bambalena odiavo Nab Nab perché mi entrava nell'occhio per favore esci dal mio occhio e odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini bambini state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio ok tempo di rubare dei bambini i miei bambini mio dio quindi cosa è successo dopo? così un giorno volevo dargli una lezione mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione per favore no spavento aspetta sono morti aspetta cosa sic no aspetta vedo qualcuno ehi fermati qui ero innamorato di Bambalena sposerai Bambalena sì Bambalena lo sposerai sì aspetta aspetta no lui l'ha rubata ora baciami per sposarmi per sempre no per favore no per favore no ma è no perché lo hai eliminato perché chiedi ti stavo salvando ma è Justin stavamo scherzando con te no mio fratello quindi hai ucciso il falso Nab Nab sei un sospetto ah ho pia perché era Zulfius non io hai inciso Bambalena facevo colazione con il ketchup il mio cibo no no li hai mangiati tutti ero sazio cosa sentito uno sparo cosa amico rosso pensavo fossi morto dimmi cosa hai fatto stavo cercando di uccidere Bambalena e Nab Nab e ho fatto una competizione per gli spaventi tempo di uccidere il giardino di Bamban siete tutti a metà partita facciamolo chi ha vinto allora nessuno quindi non sappiamo ancora chi l'ha fatto aspetta cosa stai facendo mio dio pigster quindi hai fatto tutto tu pensavo che avessi fermato il caso ero solo affamato ok stai andando in prigione impossibile che sia stato pigster ma ce l'abbiamo fatta evviva oggi vedrò le vostre facce nella vita reale cominciamo con pigster niente da fare fratelli mostratemi come siete diventati pigster ci piaceva cucinare omg ok fammi vedere il prossimo Nabab Mario si mi hanno cambiato omg storia triste controlliamo Jumbo Josh che diamine lasciate che vi mostri la mia storia omg eri un lottatore prima pazzo ok la prossima lumaca selene cosa? afmau? lasciate che vi mostri come mio fratello sia diventato una lumaca selene che diavolo? non è possibile questo è pazzesco il prossimo è opila cosa? spezia di ghiaccio omg come facevi a saperlo bello il prossimo è coach pickles vediamo omg ora zolfus wow faccia realistica vediamo ditini cosa? genna ok è l'ultimo canguro ah tagliamo la testa per favore non fatelo fermate ehi no mostrami la tua faccia ora per vedere la mia faccia valutate prima tutti i loro jumpscares vi prometto che la mia faccia vi sconvolgerà ok popcat fallo per me lasciate che lo faccia io per voi controlliamo prima jumpscare basket non era nemmeno spaventoso quindi ti sto dando la cacca bye bye bambino opila ah ti eliminerò beh il bambino opila è un grande nube cacca jumpscare ora i fratelli opila ok per me è stato molto meglio puoi restare ok il prossimo mini fiddles omg baby fiddles diventa mid omg i prossimi sono baby fiddles gli sto dando bene il prossimo sceriffo lasciate che vi jumpscare non c'è modo di farlo lo sceriffo va al buono buon fratello il prossimo nabnab avvicinarsi un me ok gli darò il buono ok voglio vedere se nabnablena ha lo stesso spaventoso jumpscare del suo ragazzo andiamo ohio nabnablena diventa mid ok la prossima è opila ed è molto spaventosa è tempo di ucciderti f opila a metà fratello il prossimo è bambalena wow bambalena andare a bene ora è il momento di bambam vieni qui gli sto dando un mid ok il prossimo snalseline mostrami la lumaca sta diventando brava ok dopo un ottimo jumpscare da parte di snalseline è il momento di far i cambiaru ho paura fata vai alla grande tempo per jumbo ma guarda cosa c'è dopo facciamolo ai è stato molto buono classico jumbo josh buono tempo per i grandi fiddles nella prima forma un me tempo di attacco metà ok passiamo al prossimo grande fiddles seconda forma seconda forma seconda forma seconda forma per te mid ok andiamo per il prossimo grande zolfius sei sicuro morirei per questo jumpscare si sono sicuro muma cacca molto grande per zolfius quindi ora è il momento di non perdente omg andare sotto di me per ottenere il mio jumpscare ok sono spaventato omg bene per stingere film e allora del coach pickles fratello era molto spaventoso ok sei pronto no non spaventoso coach pickles cattivo carino un pilastro carino un pilastro medio ok è stato spaventoso ma è ora di mangiare le tagliatelle è stato spaventoso diventa bravo è l'ora del maialino ti diamo un po' di bene tempo per stevie silenzioso sei pronto no non era nemmeno spaventoso sei cattivo tempo per il poliziotto Barry e sua moglie vieni qui ti sto dando la metà prossimo persona spaventosa ti bacerò sei buono tempo per shark lee è la tua fine ti mettiamo in mezzo tempo per i canguri vieni qui fratello ti meriti il male tempo per screech le porte sono vincenti sempre ti sto dando un buono il ragazzo dei broccoli del video di ugi waki ultra mega super spaventoso il tuo posto è in buona quindi ora goblin time aspetta cosa questo è spaventoso vieni qui si ottiene mid ok è il momento del cacciatore steve sono spaventato vieni qui ti sto dando il mid tempo per la figura attaccami come in un secondo per ottenere un miliardo di robux ti meriti il meglio ok questo ragazzo di garden of bambam ti meriti il meglio tempo per amanda fammi vedere stai andando bene quindi il prossimo oh no bob vieni qui sei a metà strada omg fratello tempo per questo ragazzo vieni qui a stai andando bene tempo per il prossimo nab nab mutato sei in mid ok e ora un me vediamo questo è l'ohio ti mettiamo al centro tempo per il prossimo ragazzo omg Thomas X ti sto dando il meglio nindi ora fratello di pigster ti meriti la metà tempo per alzarsi e vedere jumpy joshua mostrami sei diventato bravo fratello era spaventoso ma ora questo ragazzo andai a metà strada e ora no sarebbe troppo spaventoso no chi meriti il meglio ok e ora manda jumpscare tu sei a metà il prossimo uccello opila reincarnato ti diamo il meglio omg il prossimo è viola non c'è modo lascia che ti tocchi con un dito ti becchi il mid tempo per bambalena omg ho paura ha un aspetto spaventoso no ti sto dando un buon tempo per l'amico giallo sei a metà strada ora amico rosso sei messo male ok il prossimo è questo strano tipo omg sono dentro di lui ti farò jumpscare cosa? sono verde per colpa tua sei cattivo il prossimo insetto il tuo posto è a metà tempo di pibi sei pronto? sì sono un glitch no ti sto dando un buon prossimo cos'è questo? cane dei cartoni animati o cosa? vieni qui sei a metà tempo per un gatto a cartoni animati vieni qui gatto ti meriti il bene il prossimo blu ti meriti il bene tempo per il verde ok jumbo ora tocca a te mostrami qualcosa è stato spaventoso stai andando bene ok ora è il momento del ragazzo rosa il tuo posto è a metà strada ok amico arancione sei pronto è la tua fine ok tipo di metà l'ho visto troppe volte ti mettiamo al posto giusto ora è il momento di zolfo tritesse ti sto dando il bene ok prossimo che cos'è questo? questo è stato spaventoso ti meriti il meglio ora è il momento della A dell'alfabeto loretico vieni qui sei bravo ok il prossimo bambola del gioco del calamaro ti prendi la metà ok ora scheletro il tuo posto è a metà ok ora ciao vicino ho paura perché ha un aspetto strano tu prendi bene ok ora nibbler attaccami è stato spaventoso sei stato bravo prossimo gioco divertente jumpscare il tuo posto è in mezzo ok è il prossimo cosa? stevie no lasciami in pace ti meriti il male il prossimo o no mister fun tu ti meriti il bene sei pronto per me? si il prossimo è beach omg ti guardo in faccia sei bravo il prossimo johnny cool kid omg stai andando a metà ora stinger flimma mutato bei denti sei bravo ora ciachi la bambola ha un coltello prendi la metà tempo per il signor bestia vieni qui per un piccolo bacio ti fai male ok la prossima cosa da fare è sei a metà tempo per baldi ti sto dando il bene e ora flupa siamo entrambi i gatti ti meriti la metà ora nab nab tre teste il tuo posto è in buona ok il prossimo treno jumbo vieni ti sto dando una buona ora mangia treni vediamo sei a metà strada ok il prossimo è panda hai fa male sei a metà ok il prossimo è bowser fammi vedere cosa sai fare pesche pesche ti amo omg bella canzone ti mettiamo in buona posizione ti mettiamo in buona posizione il prossimo è lemon ti diamo il mid ora mostro dal terzo capitolo di Darten of Bambam vediamo stai andando in mid il prossimo è spawnbo bex fammi vedere cosa sai fare omg la mia testa ti meriti il bene ora mangiatini vieni il tuo posto è a metà vicino a freddy shika e monti avanti naturalmente voi tre meritate il meglio ok il prossimo è l'uomo della finestra omg sembra inquietante ti farò jumpscare a tu prendi la metà il prossimo è kissy missy tu sei a metà prossimo giraffa dal capitolo 4 attacco fa male mettiamoci in cattiva posizione ok la prossima bambola poppy ti sto dando il bene ora boxy boo andiamo fa male tu vai a metà strada ora ubi per te c'è solo il meglio gatto nelle scarpe wow è stato spaventoso e dolce grazie sei il migliore il prossimo è robine il tuo posto è in buona Godzilla hai ottenuto la metà ok il prossimo è baby gambe lunghe ti diamo il mid prossimo minion non sapevo che i minion uccidessero ti danno un buon risultato prossimo silent ti sto dando il bene prossimo pd omg classico non fa paura ma il tuo posto è il migliore il prossimo è scp vieni qui ti meriti il meglio Ikea ti meriti il meglio il prossimo è Sam sei a metà strada e il prossimo è Daisy ti diamo il bene omg e il prossimo diventa rosso ti meriti una cacca etica omg non ne sono rimasti molti Mario uomo motosega ti sto dando un buon ciuffo ciuffo chance si ottiene buono nonna e per ultimo Peppa sei bravo finalmente li ho fatti tutti quindi ora kanguro mostrami la tua faccia ora cosa era mio fratello nu aspetta mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale testiamolo ho creato dei bambini bellissimi a mutiamoli fatto non mi sento bene papà vieni qui papà ancora no oddio ha funzionato il mio pennello è il migliore e me aspetta ehi riportaci alla normalità orario della lezione bambini disegnatemi facile buono evviva il mio turno buono lascia che te lo disegni che cos'è questo cattivo aspetta mi dispiace ho troppo potere non disegnerò mai più niente popcat cosa hai fatto ho bisogno di disegnare fatto è la tua fine popcat oddio cosa è appena successo se ho dei superpoteri come posso fare soldi guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari prima io prima io ah perdenti il mio turno posso provare ah sì ma perderai devo disegnare una macchina fatto wow sta volando aspetta come facile questa è impossibile ho bisogno di una nuova macchina andiamo oh mio dio ce l'ho fatta l'ultimo ce l'ho fatta non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio sono ricco sono ricco ma ne ho bisogno di più chi salterà più lontano vincerà l'intera terra oddio è questa la mia macchina sono il primo bel salto il mio turno che bel salto tocca a me perdenti buon salto tempo per me noob arriverò alla mia lambo salto intermedio ora è tempo per il bagno aspetta è troppo lento lasciate che ne disegni una nuova fatto wow oddio quasi la fine congratulazioni hai vinto la terra andiamo la polizia lui sta imbrogliando catturatelo devo disegnare una macchina fatto wow devo disegnare disegnare di nuovo fatto ok è ora di distruggerli wow ha funzionato capo cosa devo fare saltami addosso grazie ora devo nascondermi perché ce ne sono altri oh no cosa dovrei disegnare dopo um pokat aiutami stanno distruggendo la mia fabbrica oddio disegnerò personaggi personalizzati non ti preoccupare fatto wow ora penserò a qualcosa di strano fratello che bello sta qui prossimo ah incredibile ultimi due oddio prossimo fatto wow ok attacco grazie mille pokat nessun problema ma ora sei in arresto mi dispiace cosa si fermi si fermi lì incredibile sono in prigione disegnerò la fuga bello um um ciao sto valutando da ora ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova lo farò io bello tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi tutti i miei amici sono morti aiutami per favore disegniamo fatto evviva prossimo stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso non c'è da preoccuparsi grazie grazie tutto l'uno il prossimo è zolfius si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco ok fammi provare fatto grazie voleva essere più grande della terra oh sarà difficile ma ce la farò ok ce l'ho fatta bene ha rubato l'autobus con i bambini di randy friends è brutto quindi ciao ciao facile ok il prossimo è stato picchiato dai bugli e voleva denti e ossa nuove per spaventare la gente disegniamo fatto wow questo è così fido ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito i bambini restano qui per un momento dei bambini una buona cena aspetta non mi sento così bene perché ci hai mangiato ehi se vuoi ottenere robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone come pazza smettila di inseguire le persone fratello il prossimo aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo sai disegnare i personaggi? sì ho un'idea perfetto il prossimo fatto oh no fa schifo ma lo amo aspetta a prendere il vestito grazie il prossimo fatto fatto forse l'ultimo oh my god disgustoso che cosa hai detto? il prossimo voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam oggi valuterò tutti i vostri jump scares prima ahi ora tu buono prossimo ora tu ah capito non fa paura il prossimo è lo squalo spaventoso ora scream Eugen l'ultimo buono wow è stato impressionante il prossimo morto voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam mostrerò la tua faccia nella vita reale no m6 metà cattivo e metà buono va è libero prossimo aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle ehi io farò una buona cena dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando farò saltare in aria le loro case ah buono ora tu sono troppo debole finalmente l'ultimo non funziona è troppo forte sei sopravvissuto è bello voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro lo farò wow grazie voleva una moglie e dei figli ok ti disegnerò una moglie e dei figli siete dei bellissimi bambini ah bello lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger quindi li vuole indietro cibo piacevole torna indietro cuciniamoli no 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 ma sotto i miei occhi per me sei una persona perfetta ok il prossimo è così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico non credo che le tue scorreggie siano così cattive sei sicuro sto per morire mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo oh cos'è questo lo mangerò buono oh aspetta devo andare in bagno buono è ora di lavarsi le mani che diavolo il prossimo è così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso è ora di fare pipì fatto nooo ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore lascia che lo disegni fatto e per me fai solo schifo ma sei una brava persona prossimo aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei per favore baciami sei così intelligente che dovremmo stare insieme ok prossimo volevano avere dei fini ultra intelligenti ok fammi disegnare fatto sei così intelligente stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla wow wow no 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 smettila di inseguirmi devo disegnare ok fatto ora grazie per aver guardato ciao ciao